iniziamo mano sul fianco destro inclinazione laterale lenta verso destra resta in posizione e respira gambe divaricate braccio sopra la testa teso il bacino è fermo ancora 8 secondi e cambiamo 3 2 1 sciogli ora cambia lato mano sul fianco sinistro e inclinazione laterale verso sinistra braccio teso sopra la testa rimani in posizione e respira ancora 10 secondi e cambiamo 5 secondi 3 2 1 ok ora braccio sinistro al petto con la mano opposta spingi il gomito verso il petto allunghiamo il deltoide spalla bassa e resta in posizione respira e respira lentamente e in maniera controllata ancora 8 secondi e cambiamo 3 2 1 ora solleva l'altro braccio con il braccio opposto spingi il gomito verso il petto spalla rilassata e resta in posizione allunghiamo il deltoide del braccio destro ancora 10 secondi e cambiamo 3 2 1 ok ora posizione retta mani dietro la testa testa giù piccola spinta del capo verso il basso e avvicina al mento al petto resta in posizione a gambe unite e respira 3 2 1 ok sciolgo torno in posizione retta appoggia la mano destra lato del capo inclina la testa verso destra braccio destro teso lateralmente 3 2 1 cambio ora appoggia la mano sinistra al lato del capo inclina la testa verso sinistra braccio destro teso lateralmente 3 2 1 ora solleva il braccio sinistro e afferra il gomito porta la mano dietro dietro la schiena spingi delicatamente il gomito dietro la schiena respira ancora 10 secondi siamo a 5 secondi siamo a 3 2 1 cambio mano dietro la schiena piccola spinta con la mano sul gomito respira ancora 8 secondi e cambiamo 5 secondi 3 2 1 ok ci spostiamo a terra seduti sui talloni intreccia le dita delle mani palmi verso il basso braccia tese e schiena dritta respira ancora 10 secondi 3 2 1 passo in posizione quadrupedica mani posizionate sotto le spalle dita delle mani verso le ginocchia braccia tese e resta in posizione ancora 6 secondi e cambiamo 3 2 1 riporto le mani con le dita rivolte in avanti e respirando in curva la schiena e inspirando in arca la colonna ginocchia sotto le anche prendi aria quando distendi l'addome fuori aria quando contrai l'addome e incurvi la schiena continuo ancora 5 secondi 3 2 1 ok piano piano risali benissimo il tuo allenamento è terminato ci vediamo al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti